Nel nostro paese oltre il 45% delle morti per tumore è attribuibile a fattori di rischio modificabili sia comportamentali, cioè stili di vita scorretti, che ambientali. Si tratta di circa 80.000 dei 180.000 decessi annui stimati per cancro, pari a 200 morti al giorno per cancro causate da fattori sui quali si sarebbe potuto intervenire. Se ne è parlato in occasione del 26esimo congresso nazionale di IOM, l'associazione italiana di oncologia medica in svolgimento a Roma fino al 10 novembre. Il presidente dell'associazione scatta una fotografia della situazione attuale. Aumenta la quota dei pazienti che riusciamo a guarire, ma gli ammalati che non guariscono o non ancora e che cronicizzano hanno molti bisogni assistenziali, hanno bisogni assistenziali anche variegati, che non necessariamente al 100% possiamo garantire noi come oncologi medici, ma che richiedono anche altre figure del Servizio Sanitario Nazionale. per le quali c'è carenza, carenza importante ed è per questo che ci auguriamo che possa migliorare in maniera significativa il finanziamento e che a questo possa corrispondere un'organizzazione anche più efficiente delle forze che ci sono in campo. Alla prevenzione primaria, basata su stili di vita corretti e secondaria, fondata sugli screening, si aggiunge anche quella terziaria. Cioè ricordare a chi si è già ammalato che può ancora fare molto anche in termini di prevenzione. È noto per esempio che nelle persone operate per un tumore della mammella oppure per un tumore del colon, ma anche per altri tumori, anche se l'evidenza è meno forte, i rischi di una recidiva di malattia possono essere ridotti se il paziente o la paziente fanno un'attività fisica regolare, per esempio. Il presidente di fondazione IOM stila un prezioso vademecum della prevenzione. Non fumare, non bere alcol, qualsiasi dose, qualsiasi tipo di alcol è cancerogeno, fare attività fisica in maniera costante, fare una dieta mediterranea che sia basata su alimenti che siano quelli della stagione, la stagionalità è fondamentale, evitare di incrementare l'obesità dei nostri bambini, perché la gran parte, il 40% dei cancri prima dei 40 anni è dovuto all'obesità infantile. aderire ai programmi di screening e contrastare l'obesità anche dell'adulto. Con queste norme, con questi comportamenti, ognuno di noi può essere responsabile di abbattere il rischio di incidenza di tutti i cancri nel paese occidentale e quindi in Italia del 40%. Al fianco dei clinici e degli esperti intervenuti all'apertura del congresso, anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Credo che il sistema sanitario nazionale vada finanziato, poi come dico sempre, oltre a essere finanziato, i soldi del Fondo Sanitario nazionale devono anche essere spesi bene, soprattutto per i malati e per i cittadini, in un momento in cui con l'oncologia di cui parliamo oggi ha tanti nuovi prodotti che per fortuna riescono a guarire delle malattie che fino a poco tempo fa erano giudicate ingueribili. Quindi bisogna far sì che tutti i cittadini italiani abbiano a disposizione nuove molecole, nuove terapie, anche e soprattutto per sconfiggerli il cancro.